Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io onda marina e oggi faccio la recensione di questo nuovissimo schifido gomme slime che è arancione full, che era l'ultimo che era rimasto nella medicola quindi ha dovuto per forza prendere questo colore e la scatola è fatta così allora c'è questa specie di scienziato pezzo con la scritta schifido gomme slime, nuovissimo full e poi c'è scritto nuovo schifido che si allunga, si strizza, si strappa e si trasforma poi qui c'è scritto gomme slime, nuovissimo schifido, gomme slime, gomme slime, nuovissimo ripetuto per tante volte allora all'interno c'era questo foglietto che adesso apriamo e vi faccio vedere cosa c'è scritto allora c'è questo che è il disegno che c'è sulla scatola e ci fa vedere tutta la collezione qua tutti i colori che ci sono belle a me piace così blu con i glitter o verde full che sono i miei due colori preferiti però erano in mezzo solo questo come avevo detto quindi ho dovuto per forza prendere l'arancione e adesso vi faccio vedere come è fatto eccolo qua vedete che lascia tutte le impronte della verità infatti è rommoso da toccare sembra liquido ed è fresco invece adesso vi faccio vedere che in confronto all'altro questo non è liquido vedete si può modellare come si vuole strezzare allungare strappare bellissimo mi ricorda molto un gioco che avevo da piccola mi sembra di essere tornata indietro bellissimo tra tutti gli schifidoli che sono stati fatti secondo me questo è migliore è più bello non so poi se esiste il video challenge perché con gli altri schifidoli abbiamo fatto dei video challenge in cui bisogna fare la bolla enorme ma con questi mi sa che non viene perché non sono liquidi bellissimo è stupendo ci giocherei delle granure perché si può mettere in tutte le forme che uno vuole spendo spendo E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questa è stata una piccola recensione E' bellissimo, ve lo consiglio tantissimo, compratelo subito perché va a ruba, da quello che ho capito perché sono usciti da poco e nella mia bicola c'era solo questo, uno e basta E quindi niente, spero che il video sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!